Napoleone Bonaparte è stato uno dei più grandi leader militari e politici della storia. Nato il 15 agosto 1769 in Corsica, Napoleone ha avuto un impatto significativo sulla storia europea e mondiale. Dopo aver completato gli studi militari a Brienne-les Chateaux e all'Ecole Militaire di Parigi, Napoleone si unì all'esercito francese. La sua abilità strategica e il suo carisma gli permisero di scalare rapidamente i ranghi militari durante la rivoluzione francese. Nel 1799, Napoleone colse l'opportunità di prendere il potere in Francia attraverso un colpo di stato noto come il colpo di stato del 18 Brumaio. Divenne il primo console e successivamente si autoproclamò imperatore dei francesi nel 1804. Durante il suo regno, Napoleone intraprese numerose riforme che hanno avuto un impatto duraturo sulla società francese e europea. Ha introdotto il Codice Napoleone, un sistema di leggi che ha rivoluzionato il sistema giuridico francese e ha influenzato molti altri pae. Ha anche promosso l'istruzione pubblica, l'infrastruttura e lo sviluppo economico. Dal punto di vista militare, Napoleone è noto per le sue brillanti strategie e vittorie sul campo di battaglia. Ha condotto numerose campagne militari in tutta Europa, espandendo l'influenza francese e creando un vasto impero. Le sue vittorie più celebri includono la battaglia di Austerlitz nel 1805 e la battaglia di Waterloo nel 1815. Tuttavia, l'ascesa di Napoleone non è stata priva di controversie. Le sue ambizioni espansionistiche hanno portato a guerre costanti e alla perdita di milioni di vite umane. Inoltre, il suo governo autoritario ha soppresso le libertà civili e ha portato alla creazione di un vasto sistema di spionaggio e controllo. Napoleone ha subito una sconfitta definitiva nella battaglia di Waterloo nel 1815 e fu esiliato sull'isola di Sant'Elena, dove morì nel 1821. Nonostante la sua caduta, il suo impatto sulla storia è duraturo. Il suo legato politico e militare ha influenzato il corso degli eventi in Europa e nel mondo per molti anni a venire.